E' abbattuto 1-0 con gol di Eder, italo-brasiliano, la Svezia. Tino, grande esperto di calcio, riferimento della Lazio. Ricordiamo, parola della Lazio, giusto? Un grandissimo colpo di testa, bisogna dire. Tutta la nazionale che ha giocato un pochino. A chi andrà dalla Lazio? Risultato, minimo sforzo, massima rendita. Massima re. Che vuoi di più? La nazionale va avanti, tutto a posto. Chi vincerà quindi? In Italia vincerà questo europeo, secondo te? Certo. No, lo dici per scherzo? No, no, ci sono giocati i soldi. Quanto ci ha giocato? Ma una stupidaggine. Ma beh, perché vince? Perché gioca a scaltra, gioca per il risultato, come faceva pure Lippi, Berzot. E' una squadra che... Che corre, si impegna. Diciamo che è molto agonistica, a differenza di tutte le altre che presentano dei fuori classe. Fuori classe non ce ne sono. Tu prevederai? Però si impegnano. C'è un grande gruppo. Però tecnicamente mancano tanti riferimenti. La differenza la fa il gruppo e l'allenatore. Senti, fai... Ha tirato su una serie di giocatori che sembrano tutti per uno, uno per tutti. E' bravo. Quindi va bene. E' vero, è quello che vediamo un po' tutti. Somiglia un po' a quella della nazionale del 2006. Benissimo, grazie. Grazie. Grazie.